segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te diciamo la cartina intorno alla storia dell'idea del governo ma anche se tu hai consapevolezza delle crisi che stai per affrontare e devo dire che purtroppo questa consapevolezza non c'è non c'è in questa maggioranza e purtroppo io penso che non ci sia ancora in gran parte anche dell'opinione pubblica io le dico una cosa togliendomi la giacca da senatrice del partito democratico mi creda lo faccio veramente con il cuore in mano il servizio sanitario nazionale che noi conosciamo crolla crolla sta per crollare e non ce ne siamo resi conto il noi abbiamo siamo abbiamo superata la tempesta perfetta siamo uscito adesso siamo dentro lo tsunami quindi abbiamo che i due miliardi e 150 che ha aggiunto nella manovra il governo purtroppo non coprono neanche il caro bollette e siamo inflazione inflazione abbiamo un'inflazione accumulata per i prossimi due anni del 18 per cento tra l'altro quella dei dei servizi che noi possiamo diciamo capire direttamente sugli acquisti ma poi c'è quella in diretta che andrà a pesare per esempio su tutto il packaging del blister delle dei farmaci quindi abbiamo una catena che ci dice che il servizio sanitario nazionale avrà bisogno per mantenere una simile erogazione non a quella che abbiamo avuto ora ma quella che avevamo nel 2018 complessivamente di 5 miliardi in più sul fondo sanitario nazionale quindi quei due miliardi sono assolutamente insufficiente aspetti aspetti alessio c'è una dichiarazione sul tema del ministro della salute schillaci per la sanità ci sono 4,2 miliardi per il 2023 e altri 2,4 nel 2024 in più è vero che 1,2 miliardi di risorse extra budget andranno per il costo energetico delle bollette però ribadisco la nostra attenzione per il personale sanitario che merita attenzione e rispetto. Noi pure avevamo letto che i numeri sono quelli allora sono i 4 miliardi sono due che già erano stati stanziati quindi i fondi aggiuntivi sono i 2 miliardi di cui 1,4 per il caro bollette però siccome io sono onesta intellettualmente io le dico che noi come partito democratico e io personalmente come Beatrice Lorenzin alla camera dura prima che chiudesse la legislatura in modo anticipato avevamo diciamo fatto un ingaggio con il governo perché sapevamo che mancava una quota per la copertura delle spese covid alle regioni che sono ammontano a più di 3 miliardi di cui una parte era già stata data circa 750 milioni per quella mancanza copertura le regioni hanno bloccato per la terza volta il la riforma e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore terza volta bloccata in conferenza tra regioni vuol dire che le persone non hanno le prestazioni sanitarie adesso arriviamo alle persone che è la vera questione perché la vera questione poi è chi ha bisogno di cura cosa succede a chi ha bisogno di cure intanto preliminarmente Claudio ti chiedo noi ci siamo abbiamo condiviso diciamo il covid il racconto del covid il racconto degli ospedali in difficoltà ciao ciao